1 2 3 3 4 3 3 3 4 4 È un aiuto 3 4 3 4 5 4 5 6 4 3 4 5 5 6 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 14 15 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 E' un'esplosione. Ok. D'accordo. Fucca! Mirate 3. Si! Bravo! 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 Grazie a tutti. 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 1 point, 3 point, 4 point. 1 point, 3 point, 5 point, 9 point. 1 point, 3 point, 5 point. su tatami Gheri Di Silvio e Giovanni Raengo si preparano Giacomo Emerio e Noemi Greatti